Sì, è vero, pensavo a... Mamma mia, apri tutto, apri tutto, tutto ciò che apri, e andiamo, la pentola per zucco, e se non c'è una pentola per una pasta, non c'è una panna? Questo qua sotto è il nostro parcheggio, un chilo di pasta stasera, un chilo, un chilo di pasta, c'è tutto, mangiare e sapere, guarda il bicchiere di vetro, ma ragazzi questa è una favola, oddio, è una spazzata, è on the road, tutti dal gruppo, che cosa? Senti potresti evitare prendere le prossime in quella zona lì? C'è stato un po' di nuovo, non ricordo anche la sua manca, non ricordo anche la sua manca, o comunque è una fredda... A noi. Ti debobbe le datore di pe grogone. In alto giro, a voi. A noi non sceiava. Buongiorno. Scexi di figlio? Eccolo saluto. Casaste, da due. Non genevole. Puoi highroll… Arti, si vai ad me in questa parte! Eccolo lente. Grazie per la visione!